La Commissione europea intende adottare delle compensazioni finanziarie per i produttori agricoli vittime della crisi dovuta alle scherichia coli. Le compensazioni dovrebbero aggiungersi a quelle già previste dalla normativa comunitaria. Gli iscritti a organizzazioni di produttori agricoli beneficiano già dei rimborsi per il ritiro di verdure e legumi dal mercato. Un'ulteriore risorsa potrebbe venire da aiuti di Stato straordinari, con un limite di 7.500 euro a produttore nell'arco di tre anni. Diversi paesi riclamano le compensazioni, in particolare la Spagna, la cui agricoltura è stata duramente colpita perché è inizialmente ritenuta responsabile della diffusione del batterio killer. La Spagna chiede un indennizzo per compensare il danno economico. Chiediamo anche che la Commissione migliori i meccanismi di allarme sanitario nell'Unione. Delle nuove compensazioni ai produttori agricoli si parlerà in una riunione dei ministri convocata per questo martedì a Lussemburgo. Grazie. Grazie.